Amiche ed amici della Lega Calcio 8 benvenuti stasera all'Atletico 2000 si affrontano i Pumas contro il gruppo Project Team Nika avanza centralmente cerca Nonni, Nonni viene anticipato ma la palla resta lì, Nonni, gol di Nonni 1-0 dei Pumas è stato bravo Nonni ad avventarsi su questo pallone e a scaraventare in rete attaccano ancora i Pumas palla bascia, calcio bascia ottima risposta di Moroni, Nonni e ancora Moroni attaccano ancora i Pumas con Malfatti cerca il triangolo in mezzo all'aria Malfatti e calcia incredibilmente fuori attacca ora il Project Team sulla sinistra palla in mezzo, Florio di poco al lato ancora il Project Team la palla carambola verso Valentini al volo, grandissima risposta di De Santis palla a Negro Negro pensa al tiro, calcia ottima risposta ancora di De Santis ancora il Project Team che ha acquistato fiducia Valentini di testa è poco fuori palla a Medici Medici in aria mette in mezzo la sua terra Florio Florio si gira gol di Florio uno pari pareggio meritato del Project Team Florio ha stoppato si è girato e ha battuto De Santis palla a Nazareth dal limite calcia con la deviazione gol di Nazareth Alessio Nazareth porta i suoi sul 2 a 1 è stata una deviazione del difensore ma tant'è 2 a 1 per il Project Team si riversano in avanti i Pumas attaccano sulla destra palla in mezzo Nonni gol di Andrea Nonni doppietta personale e pareggio a un minuto dalla fine ancora i Pumas attaccano lancio lungo a cercare Nonni Nonni stoppa in qualche modo e batte Moroni grandissimo gol di Nonni Andrea Nonni tripletta personale e 3 a 2 dei Pumas sul Project Team l'arbitro fischia la fine finisce qui i Pumas battono per 3 a 2 il gruppo Project Team dopo una grandissima rimonta partita dal 2 a 1 e terminata con il 3 a 2 tripletta di Nonni Sì, è stata una partita difficile siamo stati insomma sia fortunati che bravi a crederci fino alla fine perché insomma mancano 4 minuti e perdevamo 2 a 1 quindi siamo stati bravi a credere fino alla fine questa è la forza insomma principale della squadra